Ciao, come va? Tutto bene, e tu? Bene. Listen to the music. Dimmi. Where are you from? She from Italia. Dove biffine, mangio maiale, perché... Sei streamer? No. No? Io sto facendo un video su YouTube. Ah, sì? Sì, la prima volta che sto facendo un video su Omegle. Oh, iscrivetevi nel canale di questo qui. Si chiama Rodrigo Burgos. Esatto. Grazie. Di nulla. Da dove vieni? Dal Cile? Cile è un paese vicino al mio paese. Conosci Perù? Certo che lo conosci Perù. Un mare spacchiuso. Troppo bello. Cioè, voglio andare a visitare Machu Picchu. Sto facendo un video su YouTube parlando con gli italiani. Con gli italiani. Ah, allora siamo famosi. Ragazzi. Allora, Mare. Allora, noi veniamo dalla Sicilia. Tu sai dove è la Sicilia? Sicilia è vicino al mare? Sì, l'isola, l'isola. L'isola è un'isola. Ma di nuovo in italiano! Canta in spagnolo? Eh sì, sì, sì. Come si chiama la canzone? Carità dell'innocente. Di quali cantante si è ascoltato, credo? Vince Royce. Ciao. Ciao. Di dove sei? Milano, tu? Indubbina. Eh, tu sei tipo della Colombia, no. Dove sei? Un iniziato. Io parlo spagnolo. Sei spagnolo? No. Della Spagna no. Parlo spagnolo. Eh, ho capito. Ecuadoriano, no? Ottio. Connoci Perù? Sì. Vengo dal Perù. Cosa ti piace di un ragazzo? Cosa guarda in un ragazzo? Sì, esatto. Esteticamente, cioè quindi fisicamente, gli occhi, i capelli, però lo sguardo in generale. Vabbè, il fisico, però non mi interessa, perché più di tanto. E il fisico non ti interessa molto? Sì, ma no. Cioè, non sono uno che guarda molto il fisico, l'aspetto fisico. Sono uno che si guarda molto più sul cervello, cioè nel senso... La caglienza. Esatto. Io sto facendo un video su YouTube, parlando con gli italiani. Oddio, sono su YouTube. Però tipo, in questo momento sono su YouTube. Sì, sto facendo un video. Ciao, bravo. Ciao, bravo. Dai. Wow, sei bravissimo, sei bravissimo. Grazie, bravo. Di dove sei? Io sono di un paese di Latinoamerica. Ah, figo. Sto praticando il mio italiano. Sì, ma è bravo, sei bravo. Ho un amico che è delle... Aspetta. Argentina. Ecuador. 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 È un paese molto vicino al Perù. Fico, fico, tu che fai? Perché è un microfono bello? Ah, sto facendo un video su YouTube, parlando con gli italiani. Qua, ci sono anche io. Buono, sì, si vuoi, si dà il mio... Sì, sì, va bene. Sei bravo, ho visto, ora mi vedo il tuo primo video. Bravissimo. Ciao. Ciao. Come va? Bene, te? Bene. Di dove sei? Lombardia. Ah, bene, bene. Tu? Conosci l'America Latina? Sì, Argentina, Brasile, quelle. Sono paesi vicini. Io sono di Perù, vengo da Perù, conosci Perù? Sì, sì, sì. E cosa ne pensi dei latinoamericani? Che sono tutti calciatori nati. Gioca al calcio? Sì. Ah, buono. Qual è la tua squadra preferita? Barcellona. Barcellona, bene. E il calciatore preferito tuo? Lionel, Andres, Messi. Cristiano Ronaldo, ti piace? È un fenomeno, ma preferisco nettamente Messi. Bene. Buono, saluti. Ciao. 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 Dove sei? Indovina. Sono di un paese d'America. Conosci Sud America? Sì. Digo. Un paese di Sud America. Honduras. No, Honduras è l'America centrale. Una domanda, cosa ne pensi dei latinoamericani? Belli, calienti. Calienti? Calienti. Parli spagnolo? Che passa? Parli spagnolo molto, un po' molto bene. Un po'. No, non sai niente. Ah, bene, bene, capisco. Buono, grazie per la sua milità. Ciao. Ciao. Mi chiamo Rodrigo. Come ti chiami? Che nome? Io Elisa. Io Marco. Ah, bene. Io vengo dal Perù. Conosci Perù? Sì. E sto praticando il mio italiano. No, no, sei bravo. Eh, lo parli bene. Una domanda, cosa ne pensi dei latinoamericani? Cosa pensiamo? Bella domanda, Elisa. Bella domanda, c'è? Cosa dobbiamo pensare? Bella domanda insolita. Fanno parte del mondo e è la stessa cosa. Non trovo differenze con le altre persone, cioè con gli altri continenti. Ha mangiato alcuni piatti di latinoamerica? No. No, noi no. Devi provare, è molto buono. Come si chiamano i piatti? Ceviche è di Perù, lo stacos è di Mettico. In Italia, qual è il cibo tipico? Guarda, sicuramente la pasta e la pizza sono quelli... Wow. Sei nato di quale città? Noi siamo della Puglia. È il sud o il nord? Sud, sud. Ah, bene, bene. Ciao. Di nuovo? Ma come ce ne hai? Indovina, quanti anni? Come è tipo... 18, 19. 17. 17. Buono, grazie. Una domanda. Cosa ne pensi dei latinoamericani? Che sono grandi, che simpatici, come te. Indovina la mia età. 18. 19. 17. Indovina la mia... Come ti chiami? Indovina la mia età, Sara. E tu? Io, Andrea. Sara, 18. 16. Dici. Tu dichacete? Quien, dici. Un che chere. Ciao. Bueno, te gustaría que hagas más videos hablando con personas extranjeras, en este caso con personas italianas. Si te gustaría, déjamelo saber en los comentarios. No olvides seguirme en Instagram como rodrigoburgo16. Ahí estáis, estarí subiendo contenido genial. Así que, hasta la próxima. No olvides seguirme en Instagram.